luoghi cosa perchè mi vuoi male api è tutto qua scusi noi come ci arriviamo cosa sta succedendo che cazzo che è successo riusci a mettere un portale uno lì e uno lì e a che è servito no ho capito aspetta aspetta di non dimuovere non dimuovere vedi c'è quello che chiude ho capito ho capito vieni qua vieni ci dobbiamo lanciare dobbiamo usare la forzata del corso ti ricordi che abbiamo già fatto una cosa del genere mi hai capito vabbè allora ora tu devi mettere uno lì e uno lì però metti prima il portale là prima il portale là metti vai metti il secolo ok mai metti il secolo non ho messo il coso devo mettere pure io il coso stai fermo stai fermo dobbiamo usare la forza che capo hai fatto stai fermo quello lo metti per ultimo hai capito? ah ok vai si si lo so vai a volte devi mettere quella ma devo mettere l'altro devo mettere l'altro era l'altro devo mettere l'altro l'altro devo mettere no ma dai devo stare sopra se no non ho già abbastanza tempo cineti perchè si è suicidato? metti il primo portale là no ora gli ho blocco fu proprio ora vediamo se secondo me si che ci senti ma spero fa solo uno di noi dai vai grazie 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 forse è al contrario forse è lì forse è lì forse è lì che dici cosa succede lì? proviamo mettilo qua tu no 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 lì lì qua qua hai finito hai finito di togliermi e tu in teoria dove cade qua hai capito? dai l'ho capito l'ho capito io dai dai che l'ho capito allora metti allora metti in portale qua qui metti qui metti ok dai vai piazzica bravo mi raccomando mi raccomando mi raccomando eri troppo in anticipo mi raccomando mettici meno sempre a mettere l'altro portale che ho intanto almeno ammortizzato vedendo no? ce la fai da qua padre? no eh mi hai fatto guaglia in mano mi raccomando i geni i geni eccomo ehi ecco potete eb ehh no mi dai chiedi che dobbiamo stesso switch di primo ehh come fai? ce lo fai sotto di me? quando vuoi? ma pensavo che l'avevi preso! ma pensavo che l'avevi preso! l'ho fatto qua io cioè io ero pronto e carico no? capito devo fare così va due pro due pro due pro due pro voloni bene perfetto sei in tutto 69 siamo a 4 su 9 dai ce la possiamo fare un metro no ti avevo salvato ti ho salvato perchè? no ma perchè? no ma perchè? tranquillo perchè hai fatto una cosa del genere a me? eh? eh? che cosa hai fatto? che cosa hai fatto? ma che cosa? ma che cosa hai fatto? un'inception di portali eh ma yuri ma yuri ma yushi No, grazie Vai E mo? Cosa? Comunque andava bene come lo stavamo a fare Cosa? Aha E' giusto, si Ma no, ma vale così Con grinta Eh, e beh La a fianco, qua a fianco Mettilo lì Dov'è il laser? Figuro che non dover bandarci il laser Hai sbagliato Sì, infatti, ci vai il laser Aspetta Aspetta lì, non ti muove Giusto? È stata brava? Come no? No No, un cazzo E come c'è arriva sto lato? Aspetta Che mi ha fatto? Oh, devi prenderlo al volo No, di nuovo Vai Vai, sei pronto? No, non l'ho riciccato Vai Pro 3, 2, 1, via No, non l'ho riciccato di no Ma improponibile 3, 2, 1, via Aspetta, ma se faccio così? Cioè, non era bene È monoporto La testa di angoli Ah, ok, sì No, ci cadono Non parlo Non parlo Non parlo No Che da parlo? Sì Aspetta lì Non ti muovi Eh, l'ho messo È qua giù Non c'è il portale No No, non c'è il portale Fatta Rivede subito Vai, fatto Siamo No Non mi fa parlare Che sto laggando a schifo Aspetta Non fidarti Non fidarti Vai prima tu Aspetta Arriva lì No Ma che c... No, si muo No No, ti arrabbo male Diverso Che cos'è? Gesticolo No, gesticolotto Non ci credo Hai visto? Gesticolotto No c'è? No, ti arrabbo male Non fai la vista Non c'è? No, ti arrabbo male